Ben ritrovati sul mio canale. Ciao a tutti. Allora, a qualche mese ormai dal nostro trasferimento è giunto il momento di fare un altro video su come si presenta adesso l'appartamento, la casa anzi. Inizio dalla mansarda e poi mi muovo verso il basso. Allora qui sostanzialmente, a parte il casino sulla mia scrivania, ora l'aspetto è sostanzialmente questo. Con ancora scatoloni da mettere via. Purtroppo sì, e anche quel brutto materasso. Abbiamo ancora da buttare un bel po' di roba. Solo che sto aspettando che mi arrivi il rimorchio e domani dovrebbe essere il grande giorno. Ok, quindi questo è lo stato dell'arte dello studio mio. Adesso ci muoviamo verso il basso. Qui praticamente è rimasto tutto invariato, con anche qui casino ovario. Qui è diventato una specie di ripostiglio per alcune attrezzi, ma anche qui dovrò trovare un armadietto e mettere via. Poi, allora, questo è il bagno. Facciamo così. Questa praticamente è la mia stanza. Non è cambiato nulla per il momento. Poi questo è il corridoio. Anche qui credo che sia cambiato poco o niente dall'ultima volta, però anch'io non mi ricordo più sinceramente se c'era per esempio questo specchio. Poi andiamo avanti, arriviamo alla stanza degli ospiti. Una delle stanze degli ospiti che al momento ha questo aspetto qua. Poi qui fuori terrazzino così. Anche qui non è cambiato, è cambiato poco o nulla, tranne il tavolo forse, che abbiamo questo tavolo qui anziché quello in tecche. Ok, poi andiamo nelle altre stanze di qua. Allora, questo è il guardaroba. credo che rispetto all'altra volta qui sia un pochino cambiato. Poi abbiamo qui un'altra stanza. Anche qua credo che l'aspetto sia abbastanza cambiato rispetto a prima. rispetto all'ultimo video che ho fatto. Ci sono ancora un po' di cavi elettrici volanti, ma anche quelli poi li metterò a posto. Poi abbiamo qui questo ingresso dove abbiamo appena messo questo specchio. specchio. Il bagno qui. Adesso si vede che ci stiamo vivendo e lo stiamo utilizzando. e questa è la seconda stanza degli ospiti che si presenta rispetto all'ultimo video, credo in maniera molto più ordinata. Andiamo al piano terra. qui ho montato questo specchio con questo piccolo tavolinetto che prima non c'era nei video precedenti la taff invece c'è sempre in mezzo anche e questo è il piano terra allora giriamo prima di qua qui c'è solito bagno un pochino più ordinato rispetto a prima qui la cucina che invece un po più disordinata penso rispetto al solito e qui abbiamo il salotto che ha un aspetto un pochino più bello adesso e poi infine abbiamo l'ultima stanza la nostra futura cucina e sala da pranzo che ancora è piena di scatoloni e di robe da mettere via eccoci qua questo è questa è la situazione praticamente alla fine di agosto e adesso abbiamo ordinato praticamente le porte abbiamo fissato un appuntamento per acquistare le porte al piano sopra e abbiamo anche già ci siamo già anche interessati per trovare un idraulico che ci metta qui i tubi e ci faccia gli scarichi e tutto quanto per poter mettere qui la cucina perché qui ancora non c'è nulla e niente quindi questa diventerà la nostra futura cucina per il momento è tutto credo ci vediamo alla prossima eccoci qua Grazie.